Ciao e benvenuti in Camperis. Nel video di oggi vediamo un semintegrale per 4 persone, il Leica EcoVip 109. Questo modello è alto 2,80 metri, largo 2,30 e lungo 6,99 metri. Questo è un camper adatto a te se cerchi un semintegrale compatto con ampia vivibilità e grandi spazi per lo stivaggio. Questo veicolo è pensato per una clientela esigente che vuole un camper di alta qualità, facile da guidare e con il massimo comfort. Questo veicolo è dedicato anche ai più alti grazie ad un'altezza interna di 205 centimetri. Il camper presenta una dinette in grado di ospitare anche 5 persone, una cucinadelle con ampio frigo da 140 litri, la toilette a vanno unico, due letti gemelli, un letto basculante in dinette e tanto spazio per lo stivaggio, sia nell'abitacolo che nel baule posteriore. Prima di continuare con il video non dimenticarti di seguirci su YouTube, Facebook e Instagram per rimanere aggiornato con tutte le ultime novità del mondo camperis. Il camper presenta una dinetta anteriore spaziosa, accogliente e luminosa, con i due sedili anteriori girevoli, un ampio tavolo rotabile di 360 gradi e una panca contrapposta che consente di ospitare anche 5 persone. Nella zona giorno puoi trovare alcuni pensili per lo stivaggio e un letto basculante matrimoniale elettrico. La cucina è ad elle e si trova di fronte alla porta di uscita. È composta da tre fuochi, un lavandino e ampi cassetti per le stoviglie con porta posate e divisori interni. Di fronte alla cucina è presente un frigorifero da 140 litri, con uno scomparto freezer separato. Il via e la doccia sono collocati nello stesso vano. Il box doccia sottiene grazie alla presenza di una tenda scomparsa, che ti permette di lavarti senza bagnare il WC. La privacy è garantita dalla tenda in plissé, che separa la zona giorno dalla zona notte e permette di vivere la zona giorno senza disturbare chi vuole concedersi qualche altra ora di sonno. Nella parte posteriore puoi trovare due ampi letti gemelli per due persone. La presenza di questi letti è sicuramente un punto a favore per questo camper. Sono poi presenti molti mobili per lo stivaggio. Puoi trovare pensili sopra i letti, ampi armadi sotto i letti a cui è possibile accedere sollevando i letti gemelli ed un ulteriore armadio a tutta altezza di fianco alla cucina. Il veicolo offre molto spazio per lo stivaggio anche nel baule posteriore, illuminato, riscaldato e coibentato, utilizzabile per lo stivaggio di sedie, tavolini e tutto ciò che ti è più utile se sei un amante degli sport. C'è abbastanza spazio per stivare anche bici ed uno scooter. È possibile accedervi o dagli ampi sportelloni laterali oppure dall'interno, grazie alla presenza di un'anta scorrevole sotto i letti. La gamma Ecovip, con i suoi oltre 25 anni di storia, rappresenta una delle gambe più longeve nel panorama dei veicoli abitativi. Perfettamente in linea con le qualità intrinseche del marchio toscano, questo veicolo esalta il raffinato design con la notevole attenzione alle finiture e alla scelta dei materiali, senza tralasciare il comfort e la funzionalità. Con un look sportivo e moderno, questo camper offre massima facilità di guida e un comfort ai massimi livelli. La scocca è realizzata a pannelli sandwich con le pareti rivestite all'esterno in alluminio, per assicurare una lunga durata, mentre l'esterno del tetto e del sottopavimento sono ricoperti in vetroresina, per evitare danni da grandi nel pietrisco durante la marcia. Il veicolo è coibentato internamente anche per l'uso invernale e dispone di una stufatruma Combi 4. Grazie all'impiego dello stirofum ad alta densità per isolare pareti, pavimento, tetto e per gli sportelli del garage, i veicoli Leica sono utilizzabili in qualsiasi situazione climatica. Il doppio pavimento tecnico ospita gli impianti e serbatoi a riparo dal gelo e l'alluminio sul lato interno della parete garantisce una distribuzione del calore rapida e uniforme. Forse l'unico difetto di questo veicolo potrebbe essere il letto basculante, il quale, una volta abbassato, riduce la vivibilità della zona giorno e ostruisce parzialmente l'ingresso. Sì, sicuramente ti consiglio questo veicolo se sei un amante dei semi integrali e vuoi avere un veicolo con ampia vivibilità ma allo stesso tempo compatto, con tutti i comfort e le comodità e tanto spazio per portare con te tutto ciò che più desideri. Questo veicolo offre tanto altro ancora. Per visionare la scheda completa e per conoscere tutti gli accessori e tutte le caratteristiche tecniche, clicca sul link che trovi nel post di Facebook oppure nell'info box di questo video su YouTube. Se desideri sapere quali sono gli altri modelli disponibili sui nostri piazzali, visita il sito www.camperis.it oppure per vedere, toccare e provare in prima persona i nostri veicoli, vieni nelle nostre siti Camperis dove sarai assistito da specialisti sempre pronti a consigliarti il veicolo più adatto a te. Ti aspettiamo!